Rosolini, rapina d'anziano, denunciati gli autori, sarebbero coinvolti in altri reati, indagano i carabinieri. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno denunciato un uomo e una donna, rispettivamente di 23 e 30 anni, già noti alle forze dell'ordine per la rapina in danno di un anziano dei giorni scorsi. Nella circostanza i due avevano minacciato l'uomo, costringendola a consegnare più di 1000 euro in contanti. I carabinieri hanno avviato delle ulteriori indagini per verificare se la coppia possa essere collegata ad altri reati consumati nel piccolo centro della provincia. La presenza dei due soggetti di sesso diverso pare essere il comune denominatore con gli altri reati, nei quali, oltre al denaro contante, sono stati asportati prodotti facilmente monetizzabili.